bene gente ben ritrovati con una nuova ma guarda un po serie di pvp e questa con una build che mi avete visto utilizzare per alcuni video della serie dell'analisi delle boss fight è quella della falce del desiderio e questa è praticamente l'unica build che ho in new game plus e così vedo anche un attimino con la soul memory in new game plus quanta gente riesco a trovare con il mio stato attuale in poche parole quindi spero di non fare troppe figure di merda e buon divertimento allora intanto che aspettiamo l'invasore come sempre faccio vedere un po le statistiche di questa build livello 200 falce del desiderio completo della strega della nebbia maschera del guerriero guanti di alon stivali di banner tanello delle lame di flin della cloranzia e dei giganti ok diamo un po chi è il nostro opponent di turno oh no madonna quanto grande ciao sì va bene dai ho capito mago ti è andata male amico cazzo meno male che sei in new game plus lord lars 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 200 200 mi è chiaro tutto il resto un po meno eh chi è questo qua ciao cos'è fai da host o o o combatti host ok ok è un quarto d'ora da aspettare cazzo tutti con quell'arma lì eh Sì ma sei poco prevedibile ah l'anello lì fantastic veramente bellissimo bene 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 dai dai che bello si dove sei cosa fai ti fermi o no questo non si ferma che cazzo ti serve tutta quella preparazione amico no dai gg oh che bello yanus acro, meglio questo qua l'ho già sentito ok dai combattiamo oh presepiedono ok ok e dove vai dove vai perché fai così stai facendo andare sui nervi oh ecco qui si è stincata ancora la barra della vita wow oh oh questo non te lo aspettavi eh dai oh bene dai due duelli di fila bellissimo poi con un avel bello mi piace la cosa ma si cominciano si qua spammer spammer ahahah bello il dexter mi è piaciuto tutto mi è piaciuto tutto mi è piaciuto tutto sono grande dai dai spara un altro malocchio nooo dai proprio lag deve rovinarmi tutto cazzo no dai niente lag bella zio non so dalla tua parte com'era ma qua c'è stato un po' di lag eh oh che bello dai cos'è sta cosa e ciao oh madonna comunque devo dire che qua in 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 new game plus sto incontrando più difficoltà a farmi evocare dalla gente rispetto che alla prima partita eh ma non tanto che c'è meno gente di gente ce n'è comunque una barca e mezza però diciamo con le evocazioni sono un po' più lente ho notato che spostandomi correndo dove sta correndo quel bigolozzo lì verso il falò molte volte ehm improvvisamente spunta fuori la eh l'icona di evocazione no? eh 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 vai eh 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 valla zio valla abbiamo un oppositore salute si ho capito ah che ci arrivo eh che dobbiamo combattere eh 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 dai cazzo stai facendo dai ok eh boom ok dai 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 ah un altro sotto eh è t bellissimo l'attacco pesante è piatra di correre in giro minchia è almeno uno che non va di spam e non mi freghi quei baxter che cazzo vai continua a correre olè eh finalmente yeah calore ok bene nuovo incontro che bello due incontri di fila mi piacciono troppo queste sfide ok questo è già tanta energia sarà dura tirarlo giù come dire Ok Ottimo Wow Due incontri di fila Che bello Ce l'hai ancora Dai Ok Ho incontro Con il canarino Yellowman Cosa fa? Usa i cazzotti? Pucatrip Ho ho Ma che balle Cioè? Sarebbe Questa roba Non mi faccio Bregare Mmm che noia Oh Il danno Mamma mia Quanto cazzo deve durare Questo scontro OLEE Grande zio Bella lì Mi è piaciuto lo scontro Adesso quanto durerà ancora Sto cosa Dai Ok Ok Sì ok Va bene ho capito Dai l'antifona la so Allai 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 Ah, fottuto Eh, buon dai, era un po' meno fresco di te, eh, ragazzo Sempre il solito Grazie